Vasto Girardi va stese e riconfermato il risultato dell'andata 1 a 1 al terzo minuto di gioco di Allo a lunga per Agnello, ma l'azione non si concretizza. Ci prova poi Alessandro, l'ex del campo basso calcio, ma anche questa volta l'azione si chiude con un nulla di fatto. Subito i padroni di casa riescono a sottrarsi al pressing avversario e diventano insidiosi con un prolungato possesso palla. Ed è proprio al decimo che Salatino dalla metà campo recupera palla ed innesca Alagia, sulla cui splendida conclusione il portiere non può nulla. Al sedicesimo dripling di Salatino che prova a piazzare, ma interviene di Rienzo con la mano di richiamo. Subito dopo Guadalupi su punizione aziona Guida, stop di petto e tiro al volo. Al ventitresimo Guida potrebbe approfittare del retropassaggio della Vastese, ma forse ci pensa troppo. Al trentesimo Alessandro supera con destrezza due avversari, ma il tiro è troppo centrale per impensierire Di Stasio. Dopo poco però il numero nove della Vastese riesce nel suo intento. E' Sansone a dare inizio all'azione il toccoleggiadro, ma preciso di scafetta per Alessandro, che trafigge Di Stasio con una imprendibile diagonale. E' uno a uno e qui si fermano le due squadre. Sul finire del primo tempo Alessandro si appoggia a Ceccacci per riprendere subito la palla, ma la sua prodezza non va a buon fine. Parte il secondo tempo caratterizzato da tanta grinta, ma zero concretezza. Le due azioni deludenti di Guida, prima con il tiro dai 30 metri circa e poi sotto pressione, perde la calma, non sa aspettare. Il suo tiro termina direttamente sul portiere. Al cinquantottesimo Guadalupi è pronto a servire Guida, ma Altobelli blocca in scivolata il tiro del goliador. Al ventiduesimo si invola il neo entrato Le Noci e prova la conclusione. Al ventottesimo del secondo tempo, gol annullato alla vastese. Alessandro guadagna il fondo, scarico all'indietro per Le Noci, che gli restituisce palla. Ma per l'arbitro il signor Gabriele Zangara della sezione di Catanzaro, la posizione dell'ex Campobasso è irregolare. Al trentaduesimo Alessandro non frena, anzi accelera per tentare l'ultimo assalto. Prende il palo esternamente, la palla rimbalza sul destro di Monza, respinge di Stasio. La conclusione non è vincente. Prova a rispondere a Laggia con un doppio tentativo. Prima il suo tiro a giro finisce largo e poi, solo davanti a Di Rienzo, calcia a lato. Al triplice fischio, le squadre lasciano il terreno di gioco, sapendo che avrebbero comunque potuto fare qualcosa in più.